Abruzzese di origine, romano di nascita, romanista di fede calcistica, 59 anni, sposato. Antonio Corona, lasciato l'incarico all'Odi, nominato successore di Fulvio Rocco De Marinis, si racconta la stampa in un incontro pubblico che subito mette in luce il suo carattere, il suo modus operandi. A tre giorni dal suo insediamento parla del suo avvio con massima apertura. Sono stato accolto comunque molto bene, adesso mi sto ancora guardando in giro, poi sono romano di nascita, quindi sono uno che è un po' curioso, va a vedere come sono le cose, le strade. Ho iniziato a correre la mattina per vedere un po' com'è, quindi ho cominciato un po' a esplorare il territorio. Ascoltare, osservare e intervenire, questa la sua filosofia che mette subito in chiaro. Ama scherzare e soprattutto spiega ama la cordialità e i buoni rapporti. Di chi ti racconta conosce già alcuni trascorsi e peculiarità. Perché anche se la provincia, come le ricordavo, è comunque una provincia molto grande, è una provincia industriale, è una provincia che ha molte criticità pure, perché ha delle cose bellissime, per esempio il mare, la collina, la montagna. Però mare, collina e montagna sono anche tutte problematiche, tutte criticità allo stesso tempo. Ecco, più che parlare di programma, vediamo un attimo cosa c'è sul territorio, quali sono le diverse questioni e poi un pochino a volte cerchiamo di metterle in ordine.